...e condanna a Riverti e Andrea, concessa in circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione. Bergamaschi e Maria Teresa, concessa in circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione. Cominara, ritenuta la continuazione tra i suoi reati di quel capo 5.3 e di cui ha rapporto contro il quale saia dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2017, per il capo 6.1, considerato tra i due più gravi, e il cumulo materiale con il reato di quegli articoli 110, 118 e 320 del Codice Penale, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione. D'Alfonso Daniele, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti, è più grave il reato di cui è il capo 2.10b, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione. Ferrara Giuseppe, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Borrasi Carmine, alla pena di anni 2 di reclusione. Moretti Giovanni Pietro, concessa in circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione. Ressone Giovanni, concessa in circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione e di eurocento di multa. Rossi Paola, concessa in circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione. Condanna Aliverti Andrea, Bergamaschi Maria Teresa, Comilara, D'Alfonso Daniele, Ferrari Giuseppe, Gorrasi Carmine, Moretti Giovanni Pietro, Ressone Giovanni, Rossi Paola, Sozzani Diego, Zingale Giuseppe, al pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 530 del codice di Gesù della penale. Assorde, Altitonante Fabio, Arrido Piazzercio, Baronchetti a fine Leandro, Borghetti Stefano, Brambilla Monica, Bratta Savelio Maria, Campana Michele, Capristo Antonio, Caru Moreno, Cassani Andrea, Cocciolo Antonio, Colombo Michele, Cunda Rimatta, Cuoco Alfonso Lucio, Giamanti, Tanti Davide Antonio, Deciris Mauro, Di Lucia Emanuele, Tonzelli Fabio, Tonzelli Massimiliano, Filoni Giuseppe, Trascendo Antonio, Gaslini Tanti Antonio, Bramendola Domini, Grossi Andrea, Lerose Lorenzo, Mai Lini Giorgio, Malaclida Ferroigi, Mangione Alessandro, Moranzoni Mauro, Napoli Renato, Nodari Luca, Ongari Fabio, Ormelli Andrea, Ormigoni Paolo, Palungo Angelo, Passaretta Marco, Patino Luigi, Chiacentini Alessandro, Radaeri Gianmaria, Riva Giampaolo, San Giovanni Celestino, Santi Erminio, Saponiti Paola, Tatarella Pietro, Tigos S.p.A., Ligonelli Roberto, Dari Acres, che prima mente a scritti perché il fatto non sussiste.